Fabio Gilenelli, riparto dall'ultima domanda che ho fatto al tuo tecnico, ho detto che valore è giocare davanti a 4.000 persone queste partite? Una soddisfazione straordinaria anche perché veramente quando si parla di spettacolo, lo spettacolo, il palcoscenico finalmente riusciamo a fare apprezzare uno sport che quando ha questa intensità, questa emotività chiaramente è una bella serata, una bella serata, un bello spettacolo e siamo contenti di avere la possibilità di poter accedere a 4.000-4.500 persone Una vittoria che può essere molto importante per questo finale di stagione perché si è dimostrato che la squadra, l'abbiamo sempre detto, ha la potenzialità per giocare contro chiunque Questo purtroppo è il bene e il male della nostra squadra, l'abbiamo detto fin dall'inizio Noi riusciremo quest'anno a vincere, possiamo vincere con tutte ma purtroppo abbiamo anche dimostrato che possiamo anche perderle Questa sera che c'è stato? C'è stato il cambio straordinario con Fei Fei già personalità, è un leader, a prescindere dalla prestazione è riuscito a trascinare proprio tutta la squadra, finalmente in un'aggressività, in una determinazione e consapevolezza e lì abbiamo fatto la differenza Qual è il tuo auspicio per questo finale di stagione? Ultima parte delle regole al season e ai play-off? Prima di tutto finalmente da poter utilizzare tutta la rosa e recuperare tutti gli infortuni portarli a un rendimento al 100% e poi che la squadra abbia la consapevolezza che è forte Abbiamo sconfitto stasera la prima in classifica, non è una vittoria con meno altra l'abbiamo sconfitta con un gioco, l'abbiamo sconfitta con la determinazione e da qui dobbiamo ripartire Grazie